ok raga facciamo di nuovo il video di Omicol stasera benvenuti tutti del vostro Enrico Pasquale Pratico e l'accendo sulla O e seguitemi tutti e quando vedete iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bella a tutti ragazzi un like e prima parliamo e andiamo tra poco su Omicol a vedere persone serie, giusto, quelle strane che fanno vabbè mi dissocio, scusatemi, perdonatemi, non capiscono quelle persone fanno Omicol e sapete quello che dico dopo in privato io dico uno fatto vabbè aiuta Madonnina e Gesù a me e a voi a sera preghiamo a preghiera questo video lo faccio con questa felpa perché voglio fare Omicol, a me mi piace come fanno quegli altri youtuber lo faccio io non è che io ho paura, forse voi avete paura io sono grande, ho 28 anni e sono di Motta San Juan a provincia di Reggio Calabria e sono il numero uno, sono uno youtuber sono la leggenda di youtube sono famoso e voi chi siete? Non siete niente io vado avanti, vi voglio bene dai fate i bravi andiamo su Omicol voglio vedere le persone serie no quelle che fanno cose paccarose ma io fanno schifo quelle che fanno su Omicol io mi dissocio e dico questa frase e mi scuso delle persone youtube, io mi scuso, perdonami andiamo avanti e non dico le stesse cose dai facciamo Omicol così parlo con le persone e vogliono parlare con me o vanno avanti giro il telefono qua parlo con loro, con la mia faccia dopo giro da voi e vedo e mostro che parlo io con loro ok? Andiamo dai il primo video l'ho fatto con la felpa so parlare con la felpa youtube e questa con la nera sto facendo Omicol andiamo dai, è meglio ok raga ditemi voi volete il secreto o Omicol stasera? Io ho detto che faccio Omicol e vi faccio contenti volete questo? Aspettate mi caccia la luci così vedete questo? No mi dissocio questo? Volete? o quest'altro? Che è Omicol? ok volete questo? E lo porto dai ora sto registrando non è che lo porto vabbè vediamo questi messaggi su Telegram e vengo e mando una sms voglio ridere io io voglio fare un sorriso io e tutti voi così siete contenti fate un sorriso così non siete tristi arrabbiate state tranquilli che ci sono io per voi ok? andiamo ok andiamo della prima ecco andiamo vediamo che cosa fanno e dopo mi mostra a voi che su Omicolo ci sono cose strane boh era oscuro quello io uso il cellulare non ho il computer e registro la schermata stupido eh ci posso fare una parte strada? sentiamo ci sono dieci peci in un acquario sette a fuoco ciao bello sei bravissimo boh quello là giocava con il pupazzo io mi dissocio quello che stanno facendo facciamo questo video a lungo avete sentito? che lingua parla? boh cantava vabbè madonnina Gesù aiutami ci sono persone strane al suo Omicolo vabbè andiamo avanti oh Dio no questa andiamo voglio persone serie su Omicolo boh quello là giravate le camera a due letto non so guardate l'esione stava parlando vabbè no mi dissocio raga non è niente youtube questa era la sveglia sul telefono ho una chiamata che mi stavano chiamando non è che mi devi cancellare il video vabbè perché suo Omicolo si può mettere questa qua vabbè non dico niente avete sentito quando arrivate qua sentite quello che avete vabbè questo no lo mostro che era scuro non so perché fanno così raga io voglio fare serio Omicolo no che vediamo guardo prima ma io giro alla faccia qua e mostro mi dissocio con la musica perché mettono la musica a questi devo fare Omicolo senza musica io lo metto lo stesso mi stavano chiamando di nuovo e avete sentito la musica che avevo io mi stavano chiamando qua a me la chiamata normale vabbè andiamo così dopo mi guardo una serie tv vediamo un mostro così e guarda voi io mi dissocio non si vede il mio video dello schermo qua scusa scusa e dimmi vai a seguire la diretta instagram di un mio amico che adesso ti scrivo come si chiama su instagram in giota ok ok ora tra poco vado a seguirla ok ciao ciao bello ho mandato il profilo di instagram ora vado lo seguo faccio lo screen così mi salvo come si chiamano e vado a seguire questa pagina così avete visto sono contento ho parlato con questa persona non è che ci sono persone male che dicono cose vabbè continuiamo buonasera a tutti raga quando venite non romperete vabbè ciao 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 bu raga non venite a rompere le scatole a me perché io sono grande e capisco meglio di voi voi siete ancora piccole e non capite niente io sono il migliore voi vabbè non dico niente dai andiamo su o micola ancora prima un quarto io guardo qua e guardo qua questa non parlava parlava piano non sentivo che diceva era una ragazza vabbè io mi dissocio qua sono suo amico non è che faccio cose ciao bello mi ha scritto io sono maschio non sono femmina vabbè dopo suo amico le devo dire ciao è della sardegna sono una persona che ha detto sono della vabbè non dico il nome che dopo lo spaglio questa ragazza ha detto che è un'altra che è della vabbè Gesù madonnina aiutami di nuovo io mi dissocio e scusatemi perdonatemi perché mandano i messaggi su discord e devo fare i video in pace e mando i messaggi a quell'altra persone e sono scritto c'ho anche discord volete parlare con me ho chiamato normale vediamo questo qua andò davanti va bene boh ciao bellissime si vabbè andare avanti ho detto che io mi dissocio che non la posso dire vabbè basta non dico solo ciao che fate altre frasi giusta dai andiamo ancora così lo chiudo chi era buio quello lasciava un nicola aperto buh raga venite tutti su micola mettete il mio nome e io parlo con voi buh buh ciao 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 io mi dissocio mi dissocio io mi dissocio quello che ha detto quella ragazza mi dissocio vabbè vabbè non la dico oh mio dio avete sentito che ha detto quella ragazza vabbè mi viene ridere io voglio piangere e mi arrabbio no si deve ridere è un sorriso non è che rido per loro rido che sono contento che parlo con loro rido non loro su un micolo e rido io facciamo ancora due e chiudiamo alla prossima facciamo un altro video o la diretta su un micolo o un video in tante maniere dai andiamo così lo chiudiamo beh questo qua andò davanti non voleva mostrare la e parlo lo guardo qua e guardo là ciao bello sono andato avanti che era scuro non parlava non so che faceva ci sono persone strane ci sono brave gentili facciamo un altro dai e basta sempre mostrano un muro perché non vogliono parlare vabbè questa qua e chiudiamo dai no mi dissocio mi dissocio ho messo la canzone e mi ha chiamato qualcuno youtube non mi cancellare i video mi stavano chiamando c'era zonneria la canzone che l'ho messa io sul cellulare mi stavano chiamando su un micolo e anche la chiamata normale non potevo rispondere vabbè basta così chiudiamo metto pausa così chiudo questo video aspettate ok raga io vi saluto che chiudi il video ora tra poco o più tardi mi mangio questa la conoscete questa baroscia come si chiama io non la dico ditemi voi in privato no qua su youtube dove volete e mi dite come si chiama e dopo potete parlare con me mi chiamate e altre cose che ho detto quando comincia il video e quando finisce ok questa qua è buona che ha nutella la cia cioccolata tutti i tipi mi piacciono i borosci vabbè la mia parlata è bella non è cattiva sono italiano con la presa e il dialetto voi non avete capito non avete una vita voi a fare altre cose a guardare a me e andate a quegli altri canali seguite solo a me che io sono bravo non è che insulto a nessuno che non sono come quell'altro sapete chi non lo dico andiamo dai la casa di papel io sto aspettando episodio 5 e non so quando lo fanno e altre serie tv sul cellulare c'ho l'app e mi guardo la serie tv o la diretta o pubblico le foto o parlo con voi i video saluti vocale eccetera eccetera andiamo chiudiamo questo video che lo sto facendo troppo lungo ok raga io vi saluto buonanotte a domani e son di indora a tutti io chiudo così vi voglio bene e beh ciao belli alla prossima ciao ciao ciao